Proseguiamo con l'affascinante storia della corte di Versailles soffermandoci in particolar modo sul Re Sole. Sono Maddalena e tu sei su Adamas Carisma per Tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti subito al mio canale e clicca sulla campanellina per non perdere i miei video che pubblicherò ogni lunedì e venerdì alle 13. E ricordati di lasciarmi un like! Nel XVII secolo la popolazione francese rifugge dall'acqua e dall'abluzione. Considerate queste come un vettore di malattie e si appassiona tantissimo ai profumi. Usati come polveri incorporati in vestiti, parrucche, ventagli, fazzoletti, guanti e qualsiasi altro accessorio, i profumi erano usati per mascherare l'odore del corpo. Un odore estremamente sgradevole ed erano noti per le loro presunte proprietà terapeutiche. Più che di profumi veri e propri si trattava di odori molto potenti di origine animale. Erano tutt'altro che raffinati ed erano più forti e meno ripugnanti degli odori umani che dovevano coprire. Ho lezzo dato dalla scarsità di igiene che caratterizzava il periodo storico. Ma troverai tutto spiegato molto dettagliatamente in questo interessantissimo video che ti invito ad andare a guardare. Luigi XIV fu sapronominato dolce profumo dalla sua corte per la sua passione sfrenata per i profumi, non certo per il buon odore che emanava la sua pelle. Ovviamente questo era nauseabundo come quello degli altri appartenenti alla corte di Versailles. Documenti storici testimoniano che Luigi XIV fece il bagno solo due volte nel corso della sua vita. In compenso il re Sole adorava vivere immerso nei profumi. Fiori d'arancio, gelsomino, garofano bianco... Luigi XIV arrivò addirittura a far aggiungere il profumo all'acqua dalle fontane del giardino di Versailles. E' il suo profumiere Martial che soddisfa ogni sua richiesta. E il re Sole amava addirittura assistere al processo creativo. E ad esempio il principe di Condé partecipò attivamente alla creazione del profumo che serviva per aromatizzare il suo tabacco. All'epoca si usavano a questo scopo... Fiori d'arancio, rosa, gelsomino, muschio, zibetto ed ambra. Anche il tabacco dunque era profumato ai tempi dei fasti di Versailles. E ci fu chi come il maresciallo di Amon mise a punto la formula di tabacco in polvere chiamata la marescialla. Basata su iris, coriandolo, chiodi di garofano, cannella e cicero. Con l'orangerie che aveva installato nei pressi del castello, Luigi XIV lanciò la moda dei fiori d'arancio. Che sarà l'unico odore che finirà per sopportare. Dato che diventò allergico ai profumi dopo averne usate troppi. Mai l'uomo ha tanto amato il profumo e poi l'ha tanto temuto dopo averne così abusato. Questo scrissero di lui. Al pare degli abiti, le parrucche, i gioielli ed altri accessori moda, i profumi divennero un segno distintivo di stato sociale. Grazie alla passione del re dolce profumo e dato l'ascendente che la corte di Versailles aveva sulla società all'epoca, non solo francese ma anche europea, l'attività dei profumieri diventò sempre più di rilievo. Fu Jean-Baptiste Colbert, ministro di Luigi XIV, a favorire lo sviluppo dell'industria dei profumi francesi. Considerata una potenza nazionale, uno sviluppo molto favorito da grandi piantagioni d'arancio nella regione di Grasse e da diverse coltivazioni di piante da profumo. Rosa, garofano, tuberosa, violetta e gelsomino. Allo stesso tempo la compagnia francese delle Indie orientali ed occidentali diede accesso diretto ai profumieri a molti prodotti esotici, dando il via all'ascesa del mito del profumo francese. Adamas diventa come un diamante, brillante, prezioso ed invincibile.